Buongiorno e ben trovati all'appuntamento quotidiano con le notizie dal web della città. Come sempre cominciamo con uno sguardo alla situazione del tempo che ci ha salutati questa mattina con una certa nuvolosità, mentre assistiamo in questo momento a qualche schiarita. La nuvolosità dovrebbe però aumentare nel corso della giornata fino ad aggiungere a una particolare intensità nel corso della serata, le temperature sono in oscillazione tra i 6 gradi di minima e i 20 gradi di massimo e in questo momento a Tonino siamo arrivati a 14 gradi centigradi. Qualche notizia per la giornata di oggi, questa mattina alle ore 10 c'è stata la commemorazione dei partigiani presso la caserma La Marmora e i viasti 22, mentre questa sera alle ore 21 partirà la fiaccolata di commemorazione della liberazione dal monumento ai caduti in strada settimo angolo Lugostura-Lazio che proseguirà per strada San Mauro e via da Manochiesa fino al numero civico 57. Alle ore 12 invece cerimonia commemorativa della liberazione in corso Ferrucci 122 per i caduti della Fiat. Controlli di velocità per la giornata di oggi sono su corso Grosseto, Don Calieri, corso Svizzera, Salvemini e Lugostura-Lazio e strada Aeroporto. Vediamo invece qualche notizia che ci viene dall'home page della città. Cominciamo con segnalarvi l'ultimo numero di Torino Web News, settimanale culturale della città di Torino, dedicato questa settimana alla mostra Strangers allestita alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea. La mostra racconta il percorso che attraverso le acquisizioni d'arte straniera ha portato la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino ad essere una delle gallerie d'arte più importanti d'Europa. Dicevamo della liberazione, come negli anni sono molte le iniziative per la celebrazione del 25 aprile del 67esimo anniversario che cade quest'anno della liberazione. Il programma completo è a disposizione, il volantino ufficiale in pdf scaricabile dalla notizia e l'evidenza sull'home page della città. Sono previste anche proiezioni di film a tema al cinema romano, anche qui un pdf scaricabile dalla notizia vi darà tutte le notizie e i dettagli. martedì 24 partirà alle ore 20.30 da piazza Arbarello la tradizionale fiaccolata che attraverserà Corso Siccardi, via Cernaia, piazza Solferillo, via Pietromicca per concludersi in piazza Castello, mentre mercoledì 25 in piazza Castello a partire dalle ore 16 ci sarà il concerto conclusivo delle celebrazioni. E finiamo con una notizia che riguarda la scuola superiore. Lunedì 23 martedì 24 si svolgerà il centro del protagonismo giovanile CAP 10-100 in corso Moncanieri 18, scuola superiore, manifestazione in cui gruppi di studenti torinesi nei 14 e 19 anni presentano le loro performance di danza, teatro, musica, pittura, video, poesia e altre discipline. L'ingresso è gratuito. Abbiamo adesso come sempre qualche appuntamento per la serata. Attorno alla questione del velo infuria un dibattito acceso sia nei paesi musulmani sia in quelli occidentali. Chi lo indossa vede in esso l'espressione della propria identità religiosa, culturale e in alcuni casi politica, chi lo critica invece lo considera un ritorno al passato, la prova evidente del diffondersi di un Islam oscurantista e misogeno. Se ne parla quest'oggi alle ore 18 alla libreria Cop in piazza Castello con Renata Pepicelli che è autrice di un libro interessante intitolato Il velo nell'Islam, storia, politica, estetica edito da Carocci. Continuiamo con la musica classica perché alle 18.30 al Politecnico di Torino, un'aula maglia Giovanni Eglielli, si esibiscono Manuela Custer e Giovanni Velluti con brani di Rossili, Talberg e Liss. Mentre alle ore 20.30 al centro con i congressi del Lingotto, in sala 500, sul palcoscenico Alessandra Russo al flauto e Ave Krupp al pianoforte con brani di Gerz, Schubert, Vidor e Jolivet in un concerto organizzato dall'associazione Lingotto Musica che propone un ciclo di concerti dedicato a nuovi talenti del panorama cameristico. Prima di salutarvi vi ricordo che questa settimana, il 27 di aprile, inizia il Torino Jazz Festival che durerà a filo al 1 maggio e la radiazione web della città di Torino sarà qui a raccontarvelo. Per questo oggi è tutto, ringrazio Paolo Mosso per la messa in Londra, ci vediamo domani come sempre alle ore 12 circa, io vi auguro una buona giornata. Grazie.